I temi sono di nuovo ancora quelli del vaccino, ma soprattutto anche le parole del Presidente Mattarella e poi si torna anche a parlare già con questo inizio di anno di tasse. Andiamo con ordine. Sulla questione in realtà, da una parte il vaccino con la Puglia che allunga il passo, ricorda invece il quotidiano, il mattino di Puglia e Basilicata, c'è in primo piano il discorso di Mattarella da record di ascolti che mette in guardia la politica e Renzi, non c'è spazio per i demolitori, è tempo di costruttori, di serietà e collaborazioni, avvise il Capo dello Stato, in esortare a non perdere tempo con i recovery per illusori interessi di parte. Un appello alto, necessario e molto mirato quello del Presidente Mattarella. In questi giorni mi è capitato di invattermi in un audio dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, quando diceva che era finito il tempo di interdizione dei piccoli partiti rispetto all'azione dei governi. Adesso, a parte invertite, il piccolo partito è il suo e veramente credo che sia incomprensibile in un momento di estrema emergenza, appunto di pieno piano vaccinare la vecchia liturgia della politica, delle contrapposizioni.